Tamponi sì, ma rapidi no. Da settimane diamo voce alle centinaia di segnalazioni e lamentele dei cittadini in file per ore e ore al punto tamponi dell'ospedale di Bassano. Una sfilza di messaggi lunga quasi quanto la coda che bisogna fare per sottoporsi al test nella struttura del San Bassiano. C'è chi, e sono tantissimi, ha dovuto attendere anche 6 o 7 e ora al freddo, a contatto con persone positive, con rischio di infettarsi o quantomeno di prendersi un malanno di stagione. E pensare che in queste condizioni c'è ancora chi all'Ulss 7 li chiama tamponi rapidi. Una vergogna se mia mamma ha scampato il covid con il freddo ha preso l'influenza. Vogliamo parlare della fila all'ospedale di Bassano, malati e sani assieme. Situazione tamponi scandalosa. Attese infinite di ore per fare i tamponi. Prendiamo spunto dalle Ulss in cui il sistema funziona meglio. L'ospedale San Bassiano è una vergogna, fuori al freddo e non ti dicono nulla, è solo uno schifo. Ebbene, dopo tanto clamore, finalmente l'Ulss 7 cambia direzione andando a uniformarsi alle altre Ulss del territorio. Tamponi non più ad accesso libero ma su prenotazione. Verrebbe da dire meglio tardi che mai. Attenzione però, anche le prenotazioni necessitano di organizzazione. E come ci hanno detto tanti cittadini, finora a Bassano è stata proprio l'organizzazione il vero problema. C'è disorganizzazione. Mamma mia, ma proprio non saper fare proprio. Mi sa che sono mica tanto bene organizzati.